Come ha studiato questi percorsi? Quest'anno avendo allargato il campo e esteso a tutta la dimensione massima che potevamo sfruttare, chiaramente ho avuto molte più soluzioni e movimenti e tracciati diversi proprio per questa nuova sistemazione del campo. Quindi tracciati sicuramente più difficili proprio perché ampliando le dimensioni del campo tecnicamente cambiano molte cose, per cui sicuramente anche i dislivelli rendono difficili le cose più o meno. Ci può svelare qualche difficoltà che ha inserito? Nella progressione dei salti, nella successione, distanze, nella costruzione, tutte le cose che un direttore di campo può usare per creare un salto più difficile o meno difficile, quindi distanze, costruzione, sequenze di salti e così via.